In tutti questi anni di attività su YouTube vi ho presentato centinaia di prodotti differenti, fra cui molti dispositivi per la pulizia del pavimento, ma questa è la prima volta che provo un accessorio specifico per la pulizia di materassi, divani, sedili e mobili in tessuto. I tessuti imbottiti infatti sono recettori di polvere, acari e altri microorganismi molto difficili da eliminare con sistemi classici. Infatti questo dispositivo spesso viene chiamato anche batti materasso anti-acari. Quello che vedete qui è della Jimmy ed è fra i modelli consumer più avanzati attualmente disponibili. Una manna dal cielo per chi soffre di allergie legate ad acari e polveri e per tutti coloro che desiderano effettuare una pulizia approfondita. Rimanete incollati allo schermo per conoscere meglio questo prodotto e vederlo in azione. Vi ricordo che per raggiungere l'offerta Amazon selezionata potete farlo comodamente dal link qui sotto in descrizione o nel primo commento. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale Telegram delle offerte per non perderti nessuna promozione. Ogni giorno selezioniamo i migliori sconti su Amazon in diverse categorie, così puoi risparmiare tempo e denaro. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Si presenta con un bellissimo design moderno, con un peso di circa 2,4 kg. Tenete conto che per questa tipologia di prodotto non è un peso esagerato. Esistono batti materasso con caratteristiche inferiori che pesano anche di più. Ad ogni modo il peso scarica in gran parte sulla superficie da pulire, risultando anche maneggevole. Qui abbiamo il contenitore dello sporco con un avanzato sistema di filtrazione a tre stadi. Grazie alla tecnologia ciclonica brevettata è in grado di separare efficacemente la polvere dall'aria, ottimizzando la potenza di aspirazione e prevenendo la dispersione delle particelle. Grazie a questo è in grado di catturare fino al 99,99% delle particelle. L'ampia spazzola a rullo è progettata con inserti in gomma e lana di nylon. È collegata a un motore autonomo tramite una cinghia di distribuzione, garantendo una trasmissione ottimale del movimento. Il rullo è facilmente rimovibile, permettendo di eseguire operazioni di manutenzione. Il reinserimento soprattutto all'inizio può comportare qualche difficoltà per la presenza della cinghia. Ad ogni modo basta prenderci un po' la mano. Oltre alla potente aspirazione, questo dispositivo utilizza tre sistemi differenti per la sterilizzazione delle superfici. Quindi abbiamo una luce a ultravioletti, un getto di aria calda a 60 gradi e un emettitore di ultrasuoni, che combinati insieme permettono di eliminare acari e batteri, prevenendo anche la loro riproduzione. Ha una potenza di 700 Watt e funziona tramite la connessione diretta a una presa di alimentazione. Il cavo in dotazione è lungo 5 metri, permettendo di utilizzarlo in quasi tutte le circostanze senza aver bisogno di una prolunga. In confezione troviamo anche un piccolo accessorio per la manutenzione, un filtro di scorta e un libretto di istruzioni anche in italiano. Qui sopra c'è il pulsante di accensione e quello per cambiare modalità. Quindi abbiamo la modalità solo aspirazione con lampada a ultravioletti, aspirazione più rullo e infine aspirazione rullo e ultravioletti insieme, mentre aria calda e ultrasuoni sono presenti in tutte le modalità. Per quanto riguarda la luce ultravioletta, un sensore di sicurezza la attiva solo quando il dispositivo è vicino alla superficie. È dotato anche di un altro sensore che riconosce il grado di sporco sulle superfici che sta aspirando, mostrandolo attraverso questa striscia LED con 3 gradi di colore dal blu al rosso. Bene, ora non mi resta che fare un bel test finale. Lo userò in modalità completa per aspirare il mio divano e il materasso. Alla fine vedremo insieme il risultato. Grazie a tutti. Se devo dirvi la verità sono rimasto abbastanza scioccato, anche perché ogni tanto su divano e letto passo l'aspirapolvere classico con l'accessorio adeguato, ma evidentemente questo dispositivo ha una marcia in più ed è specificatamente creato per soddisfare richieste esigenti di rimozione polvere e acari da queste superfici. Come vi dicevo all'inizio è perfetto per le persone che soffrono di allergie o sono molto sensibili alla polvere, acari e batteri, ma naturalmente si adatta a molte altre esigenze, ad esempio per chi ha animali in casa e per tutti coloro che vogliono eseguire una pulizia più approfondita, sanificando le superfici trattate. Lo vedo bene anche in alberghi e bed and breakfast, ad esempio, per pulire i materassi e i divani delle stanze. Senz'altro sarebbe un valore aggiunto e attirerebbe tutte quelle persone particolarmente attente a questi aspetti. Il prezzo di quest'ottima macchina batti materasso antiacaro è di 149 euro. Vi ricordo che potete raggiungere l'offerta Amazon dal link che trovate proprio qui sotto nella descrizione del video. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte e coupon sconto per i migliori prodotti da Amazon. Potrai ricevere le offerte in tempo reale direttamente sul tuo smartphone. Quindi, mi raccomando, non perderti la possibilità di risparmiare acquistando i prodotti che ti piacciono. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Grazie.